bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi mamma mia ho beccato in giro ragazzi un video veramente veramente bello sugoso su fortnite ragazzi volevo pubblicarvi qualcosa su fortnite mobile intanto ne approfitto ovviamente per ringraziarvi tantissimo per avere guardato in così tanti il video che ho pubblicato ieri pomeriggio appunto su fortnite mobile dove elencavo tutti i dispositivi compatibili in due parole fortnite è principalmente per iphone comunque poi andremo ad approfondire non appena ci sarà il rilancio il lancio globale ragazzi non perdiamoci in brodo di giugiole oggi c'è un video di fortnite che potete provare anche voi a fare se non è già stato patchato come sapete ragazzi con l'arrivo della patch 1.4.6 ci è stato dato ci è stata data la possibilità di usare gli esplosivi telecomandati ci sono le nuove skin il lama insomma c'è un po di roba nuova ovviamente è arrivata anche la quarta stagione del pass battaglia ma abbiamo già notato soprattutto l'abbiamo visto anche in live quando andiamo di pomeriggio a giocare assieme che c'è un piccolo bug non è questo che voglio dire che è praticamente molto facile da intuire stiamo giocando in team se uno del nostro team viene noccato quindi non viene ucciso ma viene abbattuto e noi lo tiriamo su lui rivive ovviamente ma nella schermata di gioco dove c'è l'elenco dei giocatori della nostra squadra il giocatore che è stato noccato anche se è tornato in vita rimane comunque di colore rosso con il teschio di fianco e già questo vabbè chi se ne frega era un bug una cacatina guarda questo guarda questo prima di guardarlo mi raccomando però un bel pollicione in su se ti sta piacendo questo video anche se non sai cosa stai per vedere un bel like iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto allora c'è il tipo ragazzi lo stiamo vedendo molto tranquillo lui cosa fa sta droppando le armi se appena equipaggiato con la granata ballerina la vedete deve essere posizionata nell'ultimo slot slot numero 5 guardate cosa fa adesso lui prende la granata ballerina guarda se la butta sui piedi comincia a ballare quindi come state vedendo inizia a ballare da solo perché si è buttato sui piedi la granata ballerina e guarda cosa fa adesso guarda 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 aspetta che finisce recupera il fucile slot pieni questo gli da l'arma e lui la prende guarda incredibile gliele da un'altra e lui la prende un'altra ancora e la prende ragazzi incredibile c'è un glitch che dà la possibilità di raccogliere le armi illimitate una roba che dici cioè mi carico tutto di roba tanto chi se ne frega guarda 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 e non è una cagata dici perché adesso lui cosa fa gli dà le granate si piglia pure le granate qualche roba guarda che roba adesso comincia a droppare le armi e guarda che storia cioè lui troppo un'arma sotto ce n'è un'altra troppo un'arma sotto ce n'è un'altra e gli lascia giù ragazzi una fucilata di armi con tanto delle tre granate guarda che cosa ha lasciato giù ha lasciato giù un arsenale che cacchio dice allora uno si piglia solo i medikit uno si piglia tutte le armi ragazzi incredibile bomba ballerina ce la buttiamo sui piedi la mettiamo nel quinto slot abbiamo la possibilità di prendere armi infinite beh ragazzi questo era un video su fortnite che ci tenevo tanto a farvi vedere è una cosa scoperta da poche ore potrebbe già essere stata glitchata glicciata sistemata non lo so io ce lo tenevo a farvela vedere vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video vi ricordo un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao